qui mi trovo a sant'anna di limone verso il col di tenda vi faccio vedere quello che rimane dopo l'alluvione di quest'autunno dove sto inquadrando adesso c'era la strada romana guardate ha mangiato tutto l'acqua tronchi radici a volontà dove sto filmando adesso dove vedete la terra era tutto un bosco ha portato via tutto la furia dell'acqua è andata bene che nella notte ha smesso di piovere perché questo condominio che vedete che si trova sulla riva del torrente poteva anche rosicchiare le fondamenta grazie